Forze nemiche all'orizzonte Tritirata! Tritirata! Attenzione! Recording a target position! Tritirata! 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 Sovralimentazione attivata! Tritirata! 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 Allarme incendio! Problema risolto, signore! Problema risolto, signore! Problema risolto, signore! Rilasciata cortina fumogena! Problema risolto, signore! Concentrate fire on the designated target. Music Problema risolto, signore! 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 Problema corazzata nemica! Allarme incendio! Problema risolto, signore! Problema risolto, signore! Problema risilo, signore! Problema risolto, signore! Problema risolto, signore! Problema risolto, signori! Back to life! Affirmative! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.